Salve, sono Marco Casario, CTO di Contest. Bene, iniziamo un percorso dedicato al responsive design e quindi allo sviluppo di applicazioni cross screen, ovvero indipendenti dallo schermo all'interno del quale sono caricate. Le responsive design è una tecnica, è un approccio in realtà allo sviluppo nato ormai da un paio d'anni e la frammentazione e il diffondersi di tantissimi device diversi con risoluzioni diverse ha ormai determinato e obbligato gli sviluppatori a non poter sviluppare un'applicazione web senza avere l'accortezza e le attenzioni tecniche e tecnologiche per poter furire di questa applicazione anche su dispositivi mobili. Questo perché ormai è un dato di fatto, il web è uscito dal desktop, oggi addirittura ci sono statistiche che ci dimostrano che la maggior parte degli utenti navigano i contenuti sul web utilizzando smartphone e tablet piuttosto che seduti sulla loro scrivania davanti ad un desktop o ad un laptop. È quindi fondamentale tenere in considerazione questi fattori e questo target di utenti. Il movimento, chiamiamolo così, del responsive web design risale ad un articolo appunto pubblicato da Ethan Marcotte nel 2010, maggio 2010. L'articolo è uscito per Alistapart, un sito molto famoso dedicato allo sviluppo e al design. Il titolo appunto recitava e cognava per la prima volta il termine responsive web design e in questo articolo si dava, l'autore dava una definizione del concetto che è piuttosto interessante, per questo motivo l'ho riportata all'interno di questa slide. In particolare Ethan affermava che il responsive design non vuol dire disegnare e sviluppare un'applicazione per i dispositivi mobili, però non è neanche una tecnica, un approccio per disegnare per il desktop. È invece piuttosto un approccio che viene adottato e seguito per creare un'applicazione, una web application che sia indipendente dal device e che sia flessibile e adattiva a seconda dello schermo e delle risoluzioni all'interno della quale è caricata. Bene, questa definizione è piuttosto chiara, per questo poi il movimento ha riscosso molto successo sul web e oggi se ne parla davvero tanto, anche perché dal punto di vista tecnologico non vuol dire imparare una nuova tecnologia, perché l'approccio responsive utilizza le stesse tecnologie che si utilizzano per lo sviluppo di web application, quindi HTML5, CSS3 e JavaScript, semplicemente è un approccio di buonsenso che deve tener conto di alcune fondamentali prerogative. Quando si sviluppa un'applicazione e la si pensa per i dispositivi mobili fondamentalmente abbiamo quattro diverse opzioni, ne abbiamo due in realtà, prima di tutto dobbiamo scegliere se l'applicazione sarà una web application pura a tutti gli effetti o se sarà distribuita attraverso gli store, lo store della Apple, lo store di Google, lo store di Blackberry e lo store di Microsoft, solo per citare alcuni esempi, ma di dispositivi ce ne sono veramente tantissimi sul mercato, ormai la frammentazione è enorme e adesso con il proliferare anche delle smart TV sicuramente si diffonderà anche una percentuale di utenti che navicheranno il web seduti sul loro divano davanti alla televisione, quindi ecco qui nascere anche i cosiddetti large screen. Comunque per tornare a noi, quindi pensando di sviluppare un'applicazione per il web, quindi deployandola sui propri server, rendendola accessibile attraverso il web, possiamo scegliere due strade, la strada appunto del responsive design, ed è la materia, l'approccio di cui parleremo in queste presentazioni, e la versione, scegliere invece di creare una versione ottimizzata della nostra web application, quindi vuol dire avere n versioni della web app o del sito internet, declinate per i vari dispositivi, quindi ecco che avremo una versione ottimizzata per il mobile, per gli smartphone con piccoli schermi e piccole risoluzioni, ecco qui che avremo la versione per tablet e così via. Questo è un approccio un po' dispendioso, soprattutto dal punto di vista della manutenibilità di un'applicazione, perché vuol dire non condividere la stessa codebase, avere quindi un codice che fondamentalmente cambia a seconda del dispositivo che carica quella web app. L'approccio invece responsive è un approccio proprio contrario all'ottimizzazione del sito web, perché al sito web ottimizzato per i dispositivi, perché il responsive è l'approccio che vuole mantenere costante la codebase, quindi codice identico, semplicemente una differente visualizzazione in termini di look and feel, ma soprattutto in termini di user experience, dello stesso contenuto, quindi a parità di contenuto avremo semplicemente una ridisposizione degli elementi della nostra web application differente a seconda dello schermo all'interno del quale viene caricata. Per quanto riguarda l'approccio invece, l'approccio che vede l'applicazione deployata sui vari store, possiamo decidere se andare sul nativo, quindi sviluppare in Java per Android, Google e in Objective-C per esempio per iOS, oppure scegliere la strada ibrida, quella che utilizza piattaforme framework come PhoneGap o Titanium e utilizza di solito HTML5, JavaScript e CSS come linguaggi di programmazione. Ripeto, in queste nostre presentazioni ci occuperemo delle applicazioni, delle web app per dispositivi mobili che utilizzano l'approccio responsive. In questa slide non ho fatto altro che catturare, per cercare di spiegare meglio quale potesse essere, se dovesse essere l'approccio responsive ho preso il sito dell'ites.gov, sarà anche esempio tra poco, esempio pratico tra poco di utilizzo di alcuni tool per testare l'adattività di un sito web e vedete che partendo da, guardando il monitor da destra a sinistra, abbiamo lo stesso sito, lo stesso contenuto che viene visualizzato prima su un laptop, poi su un tablet in portrait magari 10 pollici, a fianco a sinistra abbiamo invece la stessa visualizzazione ma su un tablet a 7 pollici e a sinistra di nuovo lo stesso identico sito, lo stesso identico contenuto, però all'interno, visualizzato all'interno di uno smartphone, quindi di uno schermo molto più piccolo. Come vedete il contenuto rimane costante, cosa cambia? Cambia il modo in cui gli elementi vengono visualizzati a video. E proprio questo è l'approccio responsive di cui parlava Ethan Marcotte, l'autore del termine. È davvero fondamentale utilizzare questo approccio con gli strumenti giusti per evitare di dover spendere molto effort nella fase di testing e debugging dell'applicazione. È quindi veramente utile e quasi fondamentale e cruciale avere gli strumenti giusti da usare per diminuire i tempi di sviluppo e di testing. In questo primo appuntamento voglio proprio partire da questa parte, perché è poi quella che ci permetterà, nelle successive lezioni, lo vedrete, nelle successive presentazioni, ci permetterà di andare più veloci quando dovremo fare i test del codice che scriviamo. Partiamo da alcuni tool un po' più generici, più che tool direi delle applicazioni che ci permettono in questo caso di misurare la compatibilità del browser all'interno del quale l'applicazione verrà caricata, ci permettono appunto di misurare il supporto alle tecnologie che utilizzeremo. Primo fra tutti il sito html5test.com, che è molto utile perché vi ritorna immediatamente un indice che rappresenta l'indice di bontà, diciamo così, riguardo al supporto dell'API di HTML5 e CSS3. Molto importante quest'indice perché, ripeto, sviluppare con approccio responsive vuol dire utilizzare HTML5, JavaScript e CSS3, quindi fondamentale sapere qual è il supporto del browser su cui stiamo andando a sviluppare. Questo indice nella slide ritorna 463, questo è il risultato che ottiene Chrome, lo potrei lanciare, fatemelo far vedere sul browser. Ecco, vedete, Chrome, la versione che ho installato su questo computer, prende 448 come voto più 13 punti bonus, su un totale di 500, quindi Chrome è uno dei browser che prende il punteggio più alto. Scorrendo la pagina poi addirittura vengono affrontate tutte quante le API di HTML5 e potete avere anche visivamente informazioni che vi fanno capire quali sono o quali non sono le funzionalità che vengono supportate. Faccio un esempio, sui form vedete che la proprietà, il nuovo input type date time non viene supportato da Chrome, mentre invece vengono supportati gran parte delle altre API. Bene, quindi uno strumento molto comodo. Torniamo alle nostre slide, andiamo avanti. e come valutazione che abbiamo fatto internamente a Contest abbiamo visto che browser che hanno punteggi superiori ai 400 punti con html5test.com sono browser che effettivamente possiamo considerare HTML5 friendly. Quindi è bene capire da subito quali saranno i problemi che poi affronterete per quanto riguarda l'approccio responsive, se magari i vostri requisiti di browser hanno browser, contemplano browser che ottengono un punteggio più basso di 400. Un altro sito molto utile è kenaiuse.com, è un comparatore fondamentalmente, inserite nel campo di ricerca l'API per la quale volete avere il supporto all'interno dei browser, vedete vi viene ritornata questa tabella che vi mostra i browser, non solo i browser, per desktop, ma anche i browser per dispositivi mobili, vedete iOS di Safari per iOS, Opera Mini, l'Android Browser e il BlackBerry Browser. Quindi potete sapere se immediatamente, a colpo d'occhio, se i WebSocket sono supportati dalle varie versioni e dai vari browser in commercio. Quindi kenaiuse.com è un altro sito di riferimento. Poi, ultimo da questo punto di vista, html5please.com, di nuovo anche in questa applicazione metterete la proprietà o l'API per la quale volete sapere il supporto che viene dato dai browser e immediatamente vi restituirà l'informazione, quindi vi dirà se è meglio non implementare la funzionalità in base appunto al supporto che ha questa funzionalità sui vari browser. Ve lo voglio far vedere in azione solo perché, eccolo qui, solo perché c'è questa possibilità, vedete qua su Explore, cioè Not Supported By, qui potete cliccare su Mobile o Older Mobile Devices per avere una lista di funzionalità che sono supportate o non troppo supportate sui dispositivi mobili e sui vecchi dispositivi mobili e che quindi magari dovete con attenzione usare o meglio ancora non usare all'interno delle vostre applicazioni. Bene, andiamo avanti e vediamo un attimo quali sono i tool da utilizzare quando si lavora con applicazioni responsive. Vi mostrerò i tool all'interno di Google Chrome che è il nostro browser di riferimento quando sviluppiamo, però la maggior parte di questi tool possono essere utilizzati anche su altri browser. Partiamo proprio dai bookmarklet che sono i più semplici da installare e basta trascinarli sulla bookmark bar del proprio browser per averli subito a disposizione. Il primo è il Responsive Design Bookmarklet, molto comodo, lo vedremo tra poco in funzione, a questo indirizzo lo potete prendere e installare all'interno del vostro browser. Poi abbiamo il Media Query Bookmarklet e questo tool ci fa comparire un overlay fondamentalmente con delle informazioni riguardo la risoluzione, altezza e larghezza della viewport del browser. Quindi sia in pixel questa misura viene data che in EM, unità relative, non assoluta differenza del pixel e poi vi dà anche informazioni riguardo alle Media Query che sono presenti e caricate all'interno della pagina. Vedremo poi cosa sono le Media Query, sappiate per ora che le Media Query sono lo strumento fondamentale che i CSS vi mettono a disposizione per dire alla vostra interfaccia come si deve comportare in base alla risoluzione che viene utilizzata dal device che sta caricando l'applicazione. Bene, terzo strumento è il Viewport Resizer, anche questo è un Bookmarklet, anche questo è molto comodo perché vi permette di switchare velocemente senza conoscere le risoluzioni dei vari device, vi permette di simulare all'interno del browser la dimensione della viewport di uno smartphone o di un tablet sia in modalità landscape che in modalità portrait. E poi infine il Windows Resizer che è invece un Chrome Tool, va quindi installato ed aggiunto a Chrome e verrà messo a fianco della barra degli indirizzi, comodo perché innanzitutto dal punto di vista didattico vi permette di ricordare ogni volta quali sono le varie risoluzioni a seconda dei browser e vi permette velocemente di switchare la risoluzione cambiando esclusivamente la dimensione della finestra, quindi senza intervenire sul sistema operativo. E andiamo a vedere direi questi tool in azione. Io ho caricato, come l'esempio che vi ho portato, ho caricato il sito dell'AIDS.gov, lo vedete qua. Bene, partiamo dal primo Bookmarklet che vi ho mostrato, lo vedete installato sulla mia Bookmark Bar. Se io adesso clicco sullo strumento, mi si apre questa barra che mi viene caricata al di sopra del sito e io vedete qua che posso switchare e quindi cambiare la viewport, quindi l'area visibile simulando la dimensione dei vari dispositivi. Qui sto caricando il sito all'interno di uno smartphone e vedete l'approccio responsive cosa significa. Significa caricare, avere lo stesso contenuto a schermo semplicemente con gli elementi disposti in maniera diversa. Il menu è scomparso e quindi il menu adesso ha fatto comparire, per queste risoluzioni molto piccole, ha fatto comparire un tasto che una volta cliccato farà comparire su un secondo livello in overlay le voci di menu. Se torno ad una visualizzazione in landscape su tablet 10 pollici, in questo caso vedete ricompare il menu perché c'è più spazio nella viewport e mi posso permettere di visualizzare il menu esploso. E questo è un primo strumento. Vi faccio vedere il resizer che è molto simile e un po' più utile semplicemente perché ci permette di andare a cambiare, per esempio, le varie dimensioni. Quindi vedete che qua sto su un Apple iPhone 5, cioè una risoluzione di 568x320 in landscape. Se continuo a cliccare mi cambia, vedete la risoluzione, vado in portrait. Se continuo a cliccare sto in 568x320 di nuovo e sto adesso su un small tablet, quindi un tablet con risoluzione 600x800. Vedete come gli elementi cambiano la disposizione. Torno in widescreen e vedete che torna la visualizzazione con le due colonne e tutti quanti i contenuti all'interno. Il Chrome tool che vi ho fatto installare si lancia da questa posizione, il resize window. Vedete che vi fa switchare anche questo velocemente sulla risoluzione desiderata. Quindi posso andare velocemente a 320x480. Quello che cambierà questo sito è esclusivamente la dimensione del browser, quindi mi ridimensiona esattamente la finestra. Bene, questi tool sono davvero utili per fare un test in prima battuta e non dover andare ogni volta che si fa un deploy o si fa un piccolo cambiamento passare sui dispositivi mobili. Però, barrate bene che questi sono effettivamente, possono essere considerati dei tool per fare un primissimo test. Cosa importante per le web application responsive è quella di, prima di andare in produzione, di testare in maniera esaustiva l'applicazione sui device fisici. E anche in questo vi farò vedere degli strumenti che vi permettono di farlo in maniera più agevole. Perfetto, direi di concludere qua la prima parte della nostra presentazione dedicata al responsive design. Vedremo nella prossima presentazione, parleremo invece di qualche libreria che ci rende la vita un po' più facile per lo sviluppo di applicazioni responsive. Per ora grazie a tutti, ci vediamo, ci sentiamo prestissimo.